Gli posti Gli posti Gli posti Gli posti In retired Turista. Turista? Mi senti? Sono il castello Non spaventarti. voglio solo presentarmi sai che qua è stato i francesi i piemontesi i austriaci e anche i veneziani ovviamente è da loro che ho preso l'accento mi hanno sempre scavassato per i secoli ma para che torri hai visto che panorama Guten Tag io sono il confetto di San Salfatore Santa Giulia la mia edificazione risale a 753 topo cristo per voleriti ultimo re longoparto desiderio poi sono arrivati i carolinci simpatici ma io sono un longoparte sai che qui Manzoni ha ambientato una parte del suo libro ad Elchi e quest'anno sono diventato pure il sito UNESCO che ti stai ad annoiare sono pure il sito UNESCO non vedi questo ignorante sono troppo bello sto qua da quasi 2000 anni sono troppo fuori oh ma che te d'occhi non vedi sta gente Brescia è una città che ti parla ascoltala si dice Bresa ma dai che stavo dicendo lo slogan finale per bene e allora non puoi dirlo in bresciano ma sei proprio il duomo vecchio devo parlare italiano guarda che non è perché sei alto puoi fare anche il bullo ma chi fa il bullo sei tu che ne hai sempre uno e no fai bullo si quello che cosa vuole io sono il duomo nuovo io sono più alto che sei tu che sei tu che sei tu che sei tu i tuoi